Dopo la curva a rettilineo, il semaforo acceso al ponte, la gente andava dritto e tagliava la strada a chi passava dalla strada nuova. Circa sei incidenti in meno di un mese in questa curva che fa parte della viabilità di Ponte Buriano con il nuovo guado, adesso sono stati presi dei provvedimenti. Ora ci hanno messo delle barri di aereo, speriamo che qualcosa si risolva perché era pericoloso, molto. Segnalatori luminosi che inviteranno i viaggiatori a rallentare e a prestare attenzione, ma non solo. Ad intervenire è stata la provincia di Arezzo, ente competente per la manutenzione. La segnaletica era regolare, chiaramente, come ha detto il Presidente, non è che possiamo passare avanti a chi ha deciso come doveva venire questo ponte e come doveva essere dirottata questa segnaletica. Il problema sta nel tratto che si vede il vecchio Ponte Buriano, è quello il tratto di difficoltà, quella curva, che è ampiamente segnalata prima anche con dei segnali luminosi. Ma probabilmente noi dobbiamo fare un aggiustamento maggiore, visto che c'è questa possibilità che ci sia malintesi. Anche perché nel traffico locale da Ponte Buriano, pur non attraversando Ponte Buriano, possono venire le macchine verso Arezzo. Quello è un punto di incrocio, di difficile gestione, ma noi stiamo stamattina, sia l'ingegnere Bracciari, responsabile della viabilità, sia il comandante dei vigili di Arezzo, il dottor Poponcini, che era presente a questo incontro, abbiamo visto che la possibilità di mettere della segnaletica luminosa, quindi proprio comunicata a rifrangenti e anche luminosi, che possono impedire di orientarsi verso Ponte Buriano, ma di accettare la curva a destra e quindi andare verso il nuovo ponte, secondo noi potrebbe essere veramente una soluzione definitiva. Inoltre io ho chiesto di mettere anche sulla corsia, che è impedito l'accesso verso il vecchio Ponte Buriano, di mettere anche una segnaletica in basso, quella bianca e rossa, diciamo gli ostacoli, che possano essere ancora un effetto maggiore di contenimento, per un errore può avvenire.